Prosegue il trend positivo della raccolta differenziata in Toscana che per il 2018 segna un più 2,2% portando la nostra regione al 56% totale. È quanto si evince dai dati relativi alla certificazione delle raccolte differenziate riferite al 2018 appena pubblicati dalla regione toscana. La produzione di rifiuti urbani è pari a 2,29 milioni di tonnellate in aumento del 2% rispetto all'anno precedente con il dato pro capite che è passato da 600 a 613 chili per abitante positiva alla sostanziale diminuzioni pari al 29 mila tonnellate della parte non differenziata dei rifiuti accompagnata da un aumento delle raccolte differenziate di circa il 6% rispetto al 2017. Se ci spostiamo però nel Valdarno invece non sono buoni i risultati della differenziata che emergono dal report. In tutta la vallata non c'è un comune che supera il 70% di raccolta. Nella classifica valdarnese Reggello è al primo posto con il 69,49%. Al secondo si trova Castelfranco Piendiscò al 61,59% e al terzo Rignano sull'Arno con il 60,98%. Negativi i dati per i tre comuni meno virtuosi del territorio come Bucine, San Giovanni e Cavriglia che non superano il 40% di differenziata. Nel mezzo Montevarchi, Laterina Pergine, Lorociuffenna, Terra Nuova e Figline Incisa si aggirano dal 40 al 56% di rifiuti differenziati. Dati che seppur bassi sono però generalmente in crescita in Valdarno dell'1,36% nel 2018 rispetto al 2017. Reggello e Laterina Pergine i territori dove si è riciclato di più in un anno. Mentre Bucine è il comune che ha peggiorato i suoi dati dal 17 al 18 di quasi tre punti percentuali. Curiosità, in Toscana il comune più riciclone è Lamporecchio con il 90,38% di rifiuti differenziati.